Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su IndieGamePlayIt e oggi siamo su State of Decay 2 Jaggernaut Edition un gioco che era uscito nel 2018 l'avevo comprato, avevamo fatto anche una live in compagnia di Mr. Delleric e altri che non ricordo ed è uscito da poco su Steam quindi se lo avevate acquistato due anni fa ed era disponibile per PC soltanto sul Microsoft Store e lo avete comprato senza poi aggiungergli i DLC usciti beh sappiate che avete l'aggiornamento gratuito alla Jaggernaut Edition quindi lo potete riscaricare come ho fatto io allora il gioco poi si trova anche su Steam, costa 29€ che secondo me è un bel prezzo ora devo parlare con lei perché devo passargli lo zaino in modo che così posso recuperare anche il terzo zaino di che cosa si tratta? vabbè se avete giocato l'1 non si discosta molto nel senso che la meccanica è quella ma con l'aggiunta del multiplayer fino a 4 giocatori dovrebbe essere da quello che ho capito anche una sorta di crossplay cioè se giocate con Microsoft Store potete giocare con gli amici che ce l'hanno su Steam e viceversa da quello che ho capito si tratta di, vabbè questa nuova versione di Jaggernaut per chi possiede la vecchia hanno aggiunto tutti i 3 DLC usciti più una mappa nuova una nuova città in pratica ed è un gio e più, vabbè altri oggetti e un miglioramento grafico che si nota un pochino poi non è una grafica eccezionale anche se adesso è impostata ultra avremo la possibilità di gestire la nostra comunità comunità composta un po' ispirata da The Walking Dead su personaggi che possono essere più o meno carismatici possiamo affezionarci o meno a un personaggio e quando questo personaggio muore vuoi per qualche cosa che gli diciamo di fare noi o a causa del controllo sconsiderato da parte di noi stessi lo perderemo per sempre se finiremo il gioco invece potremo usare la stessa compagnia la stessa comunità per la nuova partita da quello che ho capito perché io il gioco ammetto di non averlo mai finito intanto possiamo vedere che quando entriamo in una casa vediamo tutti gli oggetti che abbiamo aperto quelli che non abbiamo aperto e se la zona è sicura o meno e le case possiamo renderle il nostro rifugio poi da lì inizieremo a mandare in giro persone inizieremo a fornire di benzina le macchine inizieremo a fare i viaggi esplorando tutto dicevo io il gioco non l'ho finito ma da quello che ho capito ogni storia ogni campagna che giocate può andare in modo diverso perché ha diverse biforcazioni quindi diverse zone in cui si può andare quindi si possono andare a esplorare fino a tre enormi mappe tra l'altro da quello che ho letto la mappa nuova aggiunge tre volte la zona del gioco base da quello che ho capito quindi di cose da esplorare ce ne sono c'è il crafting ovviamente c'è l'evoluzione della nostra base adesso noi stiamo andando a vedere no stiamo sbagliando totalmente perché dobbiamo andare dall'altra parte vedete la 98 metri ho voluto esplorare questa casetta prima di arrivare là perché la missione inizia con noi questa compagnia con dei personaggi che possiamo scegliere all'inizio se non ci va bene un personaggio ne generiamo un'altra un po' come scusatemi il paragone Rimord e si va e si conquista il primo avamposto poi si può andare raccogliendo i materiali a creare vari tavoli di crafting varie zone in cui poter far riposare le persone io adesso sto andando con molta circospezione perché stiamo portando tutti e tre degli zaini di zaini se ne possono trasportare uno solo io nel dubbio pongo fine a a questo zombie nel dubbio graficamente però è carino mi piace e per gli appassionati come me di zombie più che di zombie sono appassionato di The Walking Dead eccolo lì allora zitti 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 quello ha anche un caschetto militare quindi se si gira potrebbe essere un problema queste zone evidenziate vedete sono zone in cui noi potremmo poi andare a costruire cose ok dobbiamo ripulire la casa e poi andare a prenderla ve l'ho voluto portare perché non ricordo se ve l'avevo portato quando era uscito due anni fa potremmo andare a fortificare la casa appunto accendere la luce ovviamente ho anche un fucile e non esiterò a usarlo in caso di emergenza tipo prima io mi sono distratto e una delle due è stata aggredita da uno zombie me ne sono accorto dalle urla che poi ha lanciato porca caccia questo è mamma mia ok stavano già scappando le due qua per cacchio stai andando te si è presa malissimo no? no è perché sentiva lo zombie vabbè ma andiamo a sistemarlo in tempo zero ok si andava tutto così bene e avete iniziato a correre come dei pazzi va bene dai andiamo avanti zitti però vi invito a camminare a bassi anche voi ok dovrebbe dirci se vedete abbiamo per lo strato tre zone su sei quindi non abbiamo ancora finito quattro voglio salire di sopra adesso perché questa porta dovrebbe dar sull'esterno la apriamo per sicurezza perché poi qui c'è un capanno che non credo si possa aprire da qui ma va aperto da qua si poi ogni tanto c'è qualche problema con la telecamera quando si va proprio dietro agli angoli molto avvicinato che a me non fa impazzire ci mancano due zone ancora poi possiamo prendere possesso della casa questa è una base ok la casa potrebbe essere occupata ok perfetto va bene facciamo occupa casa vedete con questa è una base mettete in sicurezza l'edificio interagisci con il punto di rivindicazione perfetto abbiamo spazi totali 10 abbiamo cucina dello chef una camera padronale lette a castello spazzatura da sgombrare e il parcheggio occupiamo la casa smantellamento strutture ok si lo facciamo e questo diventa il nostro primo van posto scorta di medicinale esaurita premi B per aprire la schermata della base vedete questo adesso finisco il dialogo poi ve lo faccio vedere potrei controllare il nuovo bar per favore visto che so per dire per favore ok perché poi si creano anche le relazioni tra loro qua abbiamo un giardino posteriore che cliccandoci possiamo andare ad adibire a laboratorio o ad altre zone ci costa un tot di materiali da costruzione come vedete qua che sono questi comunità e possiamo fare il laboratorio con tre materiali da costruzione intanto in realtà dovremmo depositare gli zaini deposito i medizionali dovrebbero averlo depositato anche gli altri perché poi andando sulla comunità possiamo vedere ogni persona e assumerne il controllo ogni persona ha delle abilità diverse vedete questa ne ha cinque di cui una molto avanzata sul combattimento invece il signore che stavo facendo prima Jeff molto acume giardinaggio non c'è un bravo a fare quello e vorrei anche andare a vedere l'altra Sydney che ha acume tiro computer sono abilità tutte diverse prendo il controllo di lei che era lì ok no allora significa che hanno depositato tutto no non hanno depositato niente devo farglielo depositare anche se in realtà sono sicuro che esista un modo per far depositare a tutti lo zaino vediamo intanto lei che cosa aveva cibo ok abbiamo preso Sydney adesso andiamo a prendere Jay la ripersoniamo era compenetrata nel muro con lo zaino state andate facendo un cazzo tutti quanti ecco questa è la stanza visualizza Letty vabbè poi qui c'è il centro di comando perché poi è possibile anche spendere i punti che in paese si chiama Influenza per attivare delle opzioni tipo fare una chiamata radio eseguire altre operazioni utili ok abbiamo lo stoccaggio ritiro uno zaino scarta materiale per ottenere parti possiamo gestire le modifiche non abbiamo modifiche le modifiche sarebbero quelle per potenziare questa è la media di tutte le scorte potenziare i vari luoghi ogni personaggio ha il suo inventario adesso vorrei riprendere l'altro tizio Jeff perché è quello che era già andato in cucina a mangiare lui perché vedete abbiamo armi da mischia e armi a distanza lo zaino e tutto quello che lui ha addosso che poi può depositare nello zaino comunitario dove possiamo andare poi ad attingere con le altre persone per poter equipaggiarle per la missione qua visualizziamo i letti non c'è ripara struttura ci costa 2 minuti e 30 ok e mettiamo a lavorare qualcuno insomma adesso qua è già partito quindi c'è costato dei materiali la possiamo andare a costruire ed è quello che vedevamo anche dalla mappa quindi possiamo andare a scegliere la struttura da fare aggiungere un orto lui ha il pollice verde in realtà quindi potrebbe farlo pulizia dei detriti possiamo farlo elimina i detriti ci costa 2 ma in realtà due laboratori li abbiamo già impegnati di là per la sala qua quindi in realtà non possiamo farlo quello che potrei fare ora è andare e cercare magari un'auto da poter parcheggiare qua davanti e poter poi utilizzare per gli spostamenti ok gente mi defilo per un po' obiettivo quello di trovare una macchina ho scelto una mappa che non avevo mai scelto all'inizio ci sono delle zone con il simbolo del binocolo che ci consentono andando qua di guardarci intorno e di distinguere i luoghi come li stiamo distinguendo adesso qui là ci sono altri luoghi che non vediamo salendo su una di queste postazioni andiamo a spiare tutti i luoghi e vedete ad esempio qui abbiamo il bungalow verde con le risorse potenziali quelle che ci servivano appunto per la costruzione risorse potenziali nella casa bianca del crepita invece ci sono delle medicine però al momento a me serve un'auto quindi vorrei trovare un'auto quindi adesso vado con circospezione sarà la missione di questo video trovare un'auto per la nostra comunità adesso vi faccio vedere giusto due cose per i dettagli grafici è tutto a ultra l'unica cosa forse che non mi piace è la sfocatore di movimento magari provo a toglierla che mi diventa tutto un po' più un po' più nitido forse allora beh addio possiamo anche fare una corsetta però vorrei trovare un'auto intatta per poter dotare la comunità di come in project zomboid non bisogna andare avventati subito perché ci si ritrova dietro a un nord di zombie poi ho visto che tanti trovano questo gioco estremamente noioso non è un gioco per tutti ma non è di nicchia voglio dire mi piacciono le zombie ho visto anche online dei paragoni con days gone ho detto molto più bello days gone in realtà sono cose diverse assolutamente diverse perché qua la storia c'è ma nel senso è una storia di fuga è una storia di sopravvivenza days gone è una narrativa riparazione completata letto alla piazza e mezza abilitato ok ah bbq là forse c'è un'auto là c'è un'auto forse andiamo a vedere se uno di quei pick up è disponibile squelones ok sembra esserci bbq direi che è un negozio di hamburger no ma sembra proprio distrutti quindi direi che non è la nostra priorità si potrebbe sistemare prima quello forse quell'auto lì funziona non lo so adesso proviamo a vedere ecco ci ha sentito come avete visto in casa ci sono degli zombie che possono correre quindi bisogna fare attenzione non ho intenzione non ho intenzione di no è andata con la macchina c'è poco da fare non ho intenzione di usare il fucile dicevo come non ho intenzione di infilarmi qua dentro lontano da casa il barbecue di peddler c'è cibo all'interno dovremmo anche poi dare un'occhiata al cibo ci proviamo 10 adesso quindi forza lavoro sono tutti disponibili quindi potremmo dare un compito a qualcuno di costruire il laboratorio all'esterno o di pulire la zona qua io pulirei questa zona qua ok 50 secondi e puliscono poi mettiamo un laboratorio e un orto per produrci il cibo e io ho dimenticato la torcia accesa da quando eravamo a casa beh lì c'è una stazione di servizio quindi direi che potrebbe essere una buona cercando possiamo cercare con la velocità base oppure premendo lo shift però c'è il rischio di si fa già più casino però c'è il rischio di fare ancora più casino con una percentuale e quindi attirare zombie intanto riceviamo comunque anche comunicazioni dalla base che ci dicono che cosa sta succedendo e col tasto O se non ricordo male si può attivare una radio spendendo questi punti influenza che accumuliamo facendo le cose influenza la chiamo ma credo non si chiama influenza possiamo chiedere consiglio su un luogo un commerciante insomma delle chiamate rade insomma un po' come la carta imprevisti del Monopoli allora non ci sono auto qui ci sono ben due zombie e non voglio andare a disturbarli vorrei solo trovare un'auto qua c'è un'altra zona vedete che lì dentro non si può ancora riscattare come zona bisogna ripulirla dalle zombie non ci sono auto qua strano ma voglio vedere sulla mappa se mi da qualcosa beh non mi da auto però non la mi vieta di salire vedete su quel cartellone là e vedere se c'è qualcosa nei dintorni nei parage citazione vedete qua è pieno di roba che potremmo lootare là c'è uno zombie che se non ricordo male è un urlatore quindi quello lì urla e attira tutti gli altri quindi andrebbe ucciso a distanza il problema è che sembra se c'è una macchina là sotto chissà se funziona però non voglio chissà se quell'auto funziona là in garage beh vediamo intanto se riesco a non farmi beccare da questo si stava per urlare ma adesso probabilmente non lo farà più no l'auto è distrutta però ho necessità di salire qui e andare a esaminare il quartiere allora andando qua in alto si va ad esaminare andando in mira tutte le zone casa colonica per l'allevamento un'auto vedete siamo stati fortunati in alto la barra ci dice quando abbiamo scansionato tutto quindi qua cos'è value auto capanno dell'equipaggiamento c'è un'auto anche lì la il marta ci siamo già stati abbiamo esaminato quasi tutto casa di mattoni dorati manca ancora qualcosa stazione secondaria dovremmo aver quasi finito manca giù là in fondo il wrench io andare verso la macchina sapete perché andiamo verso una macchina evitando di far urlare l'urlatore allora adesso punto la mappa direi che è più vicino lì imposto la direzione 125 metri facciamo il giro qua dietro che magari siamo fortunati e non incontriamo c'è l'urlatore lì però forse riusciamo a svangarla passando da qua dentro e non facendo casino oh 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 Buioioioioioi Vieni 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 Gli sta salendo anche l'abilità Vedete che vi facciamo le cose Allora sta diventando Anche notte mi sembra Sì migliora la tua base costruendo Sì sono d'accordo Io inizierei Allora intanto scatola di semi Sono già al completo Aspetta butta questo no, vorrei buttare un po' di roba, scusate. Allora, posa, bomba in lattina, posa, sì, mi servono, mi interessano di più i semi. Semi, uno zaino e questo, e poi magari recuperiamo la granata. Vabbè, intanto siamo arrivati. Ah, volevo dare l'ordine, così almeno iniziamo. Qua facciamo un orto. Due minuti, così abbiamo il tempo di tornare indietro. Riusciamo a prenderlo, quel van lì, o no? Sta anche migliorando. No, direi che non funziona, per quanto sia un pelino buggata come. Ah, no, dobbiamo ripararlo. Cassetta degli altarezzi, perché l'auto è rotta. Niente, c'è andata male. C'è andata malissimo qua. Non ci sono auto, l'auto, l'altra che c'è, Maximilian è di là. Possiamo provare a raggiungerla. Quant'è? 200 metri. Sì, sulla mappa sembrava molto di più. Dobbiamo fare attenzione però, perché adesso sta diventando notte, e di notte potrebbe peggiorare, la situazione. Quindi è meglio telare, è meglio andare abbastanza rapidamente. Sperando, non tirando troppo la corda con la forma, perché è un'altra cosa molto importante. È un personaggio che vi piace, però non lo potete usare tutto il giorno, tutti i giorni. Lui ha bisogno di passare le sue ore e dormire. Perché se no inizia a calare la vita massima e la stamina massima. E poi, se continuate a usare lui, poi dopo un po' vi carola dal sonno. Cioè alla fine va a finire che muore davvero. Quindi arriva un certo punto in cui bisogna prenderne un altro personaggio e fargli fare qualcosa. E comandare qualcun'altro e far riposare il nostro ipotetico personaggio preferito. Qua dentro può esserci veramente di tutto, ma io spero che quest'auto vada. Anche se non è la macchina ideale per la sopravvivenza, direi che... Sì, diamo anche una bella sgasata. Oddio, sui nebovini c'è un'infezione. Quindi quelle sono delle missioni... Delle missioni da fare. C'è delle... C'è un nido in pratica dove bisogna andare a distruggere il nido, appunto, gli urlatori. Mannaggia, la pupazza. Ma non eravamo qui. La casa è là. Non so cosa mi è venuto in mente di saltare questa zona qui. Sgomma da far paura. È uno stile di guida che non ha nulla a che vedere con un simulatore. C'è un po' del GTA. Ha un po' anche del Watch Dogs. Quindi non è che si abbiano una fisica veramente eccezionale. Però abbiamo un'auto. L'auto è molto importante perché può portare, in questo caso, altre due persone dietro, se non sbaglio. Non dovrebbe essere solo di posto. Ma soprattutto ha un baule. Un bagagliaio dove possiamo andare a mettere gli zaini. Gli zaini, quando ne troviamo un PD1 e magari più di tre se giriamo in tre, li possiamo parcheggiare qua. Vedete che sono posti auto. L'auto viene salvata. Qua dietro. Tannica. Apre i baule. Vedete che abbiamo della tannica di carburante bisogna andare a fare il pieno, riempirgli il serbatoio e così via. Dovremmo aver costruito ormai creare una torre di guardia e proteggi casa. Ok, questo è l'orto che abbiamo fatto. Per creare una torre di guardia bisogna andare, penso all'esterno, una latrina, un generatore perché bisogna fornire l'energia elettrica anche. Torre di guardia dell'altiglio rosso. Alloggi degli ufficiali. Questa stiamo facendo troppo formale. Torre di guardia. Ah no, abbiamo... Ok, no, questo è un edificio che ci chiede un oggetto specifico. Raccogli acqua per l'acqua piovana. E questo è importante, però più dal laboratorio, forse. Comunque poi non sarà la base definitiva perché, come ho detto, ci si sposterà. Vedete, adesso la camera è qua a posto. Vorrebbe essere a posto. E lo possiamo andare a dormire, farti sostituire o montare mod che ancora non abbiamo. Questo ragazzi è State of Decay 2, Juggernaut Edition. 29,99 su Steam. Sui siti qua sotto non saprei dirvi perché non ho controllato. Io avevo già il gioco preso nel 2018 su Microsoft Store. Non mi pare di averci mai fatto video. Il gioco è interessante, senz'altro, se come a me vi piacciono i zombie. Io sono appassionato di spazi ai zombie. E il gioco è un'amministrazione di colonia. Usare la cucina. Vedete, si può anche andare a craftare roba. Prepara un razionamento. Prepara un banchetto. Perché non ho conoscenze di cucina. Dovrei andare a prendere un personaggio che lo sa fare. Qui c'è la mediatura delle scorte dove posso andare a buttare roba. E mentre qua invece vado a depositarlo zaino. Credo. Ho uno zaino? No. No, mi sa di no. Mi sa che non ho zaini. No, ho il mio zaino, ma zaini, zaini. Zaino ultra leggero? Sì. Ho trovato uno zaino. È proprio uno zaino non pieno, uno zaino da usare. Lo metto nelle scorte così posso prenderlo con altri personaggi. Ragazzi, non mancate come sempre di farmi sapere che cosa ne pensate di Street of Decay 2 Yagenaut Edition, appena uscito su Steam. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.